L'approvazione al Senato del decreto sblocca cantieri non soddisfa del tutto le richieste dei territori colpiti dai terremoti del centro Italia. Al di là del via libera allo stanziamento dei 10 milioni di euro per le minori entrate e le maggiori spese per l'Aquila, che sono stati accordati per il 2020, e oltre al prolungamento dei termini per la restituzione delle tasse sospese nel post-sisma alle imprese del cratere del 2009, il decreto contiene ben poco di quanto promesso dagli esponenti del Governo. Personale aggiuntivo per l'ufficio speciale abruzzese accordato a metà ed esclusione di tutte le norme elaborate dai comuni e dalle regioni per la semplificazione dei piani di ricostruzione e in generale per velocizzare la ricostruzione sia pubblica che privata. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi parla di occasione persa e getta con preoccupazione lo sguardo al futuro. Troverà il Governo date queste premesse gli ulteriori 6 miliardi di euro per il prosieguo della ricostruzione dell'Aquila e dell'intero cratere sismico. Abbiamo presentato importanti emendamenti senza oneri per lo Stato, quindi a costo zero, per la ricostruzione pubblica, quindi per accelerare le procedure per la ricostruzione di tutti i beni pubblici, aumentando anche il periodo previsto di semplificazione per le scuole al 2021, e per la ricostruzione privata perché in città ci sono ancora centinaia di cittadini che sono quelli che hanno le case in comproprietà oppure quelli che avevano la casa in corso di costruzione al 6 aprile 2009 che ancora non vedono riconosciuti dei diritti perché ci sono delle lacune normative che noi avremmo voluto compensare. Se queste sono le premesse, io inizio ad essere preoccupato in ordine alla prosecuzione dei finanziamenti per la ricostruzione dopo il 2020. A sottolineare che l'approvazione del decreto sblocca cantieri ancora lontano dalle aspettative dei comuni è anche il coordinatore delle aree omogenee, Francesco Di Paolo. Noi avevamo proposto degli emendamenti che erano molto importanti, soprattutto quelli che riguardavano le reddite sotto servizi e gli spazi pubblici, quindi l'attuazione dei piani di ricostruzione che abbiamo elaborato nel 2012. La mancanza dell'approvazione del nostro emendamento ci crea sicuramente dei problemi. Per Di Paolo bisogna fare di più per accorciare i tempi per l'affidamento delle progettazioni previsti dal Codice degli Appalti, il decreto 50 del 2016. Codice degli Appalti, il decreto 50 del 2016.